Quando avviene la messa in onda di uno di questi programmi segue quello che viene detto sui social e a quel punto manda una specie di sintesi Gli utenti scrivono che sono stufi di vedere Alex e Luigi confrontarsi continuamente e che questo porta ad allontanarli ancora di più mentre vorrebbero vederli far pace e ritrovare il legame che avevano prima Poi quando i due cantanti si sorridono e si parlano è letteralmente esploso il web Gli utenti sono contentissimi e sperano che ci sia ancora una minima speranza che tornino amici con un tempo Ecco e con questo epilogo e con questo dietro fine dei sorrisi baci e abbracci Ciao Grazie Grazie